Il mondo dell'automobilismo sta cambiando radicalmente, non sono soltanto però i modelli a cambiare o banalmente anche i sistemi di trazione a cambiare, sono anche a cambiare alcuni elementi che abbiamo sempre dato per scontato, abbiamo sempre avuto modo di vedere su tutte le automobili fin qui conosciute ma che in futuro potrebbero anche andare a sparire del tutto. Già, questi elementi che citeremo in questo video stanno andando piano piano sul Viale del Tramonto ma potrebbero appunto andare a sparire completamente. Nel corso degli ultimi anni questo è stato il trend, diminuire i tasti all'interno dell'abitacolo un po' per una questione di costi di produzione, molto più semplice creare un abitacolo pulito, limpido soltanto magari con un pannello come avviene sulle Tesla, molto più semplice, lo si installa e da lì si comanda tutto senza andare poi a complicare in fase di produzione tutto il processo di installazione e di produzione della plancia. Nel corso degli anni abbiamo visto degli abitacoli zeppi di tasti, ad esempio vi ricordate le ultime Porsche, Mercedes fino a poco tempo fa erano pieni di tasti e nel corso degli anni 80 e 90 la prima digitalizzazione cominciava a portare anche delle funzionalità molto meno analogiche e più appunto digitali i primi schermetti digitali comparivano proprio in quegli anni, non solo sui concept ma anche su automobili di produzione e i tasti sono andati ad aumentare esponenzialmente nel corso degli anni, questi andranno sempre più sostituiti poi da comandi vocali e da pannelli touchscreen. Un altro elemento che sempre meno vedremo nelle automobili del futuro sono i fari elogeni in questo caso la lampada lascerà al posto a LED fari matrix, quindi LED matrix a matrice di LED o ancora fari laser che appunto sostituiranno la lampadina alogena non solo all'esterno dell'auto per l'illuminazione durante la marcia ma anche all'interno per l'illuminazione d'ambiente. Uno degli elementi che è stato sempre più modificato nel corso degli anni è stato il cambio che è passato da essere un elemento puramente meccanico e di trasmissione delle marce e della potenza dal motore alle ruote, banalmente è diventato un elemento che va poi a dividere la potenza tra il motore termico e il motore elettrico nelle automobili ibride oppure addirittura è andato a sparire sulle automobili elettriche questo perché le elettriche non hanno necessariamente bisogno di un cambio o comunque è tutto gestito in maniera elettronica cosa che avviene anche sulle automobili col cambio automatico e sempre più spesso vediamo anche la scomparsa della leva del cambio stessa non soltanto per quel che riguarda il cambio manuale ma anche per quel che riguarda i cambi automatici quindi ancora vediamo questo elemento ma sempre più spesso si sta riducendo non solo nelle dimensioni ma anche nelle sue funzionalità quindi potremo in futuro anche vederlo sparire magari con l'arrivo in massa delle elettriche sempre sul filone della digitalizzazione anche le lancette della strumentazione o banalmente la strumentazione analogica andrà a sparire sempre di più vediamo anche su automobili accessibili, economiche o comunque raggiungibili non soltanto automobili di alta gamma una strumentazione digitale sempre più spesso sono disponibili di serie su tutti gli allestimenti quindi anche in questo caso potremmo vedere la scomparsa della strumentazione classica, analogica che per molti, per gli appassionati, rappresenta quasi un elemento romantico vi ricordate banalmente gli interni di automobili degli anni 60, 70, anche 80 rappresentavano un po' l'elemento centrale della strumentazione ti dava proprio la sensazione di essere al volante di un qualcosa di meccanico, di vivo la scritta Veglia Borletti su alcune Alfa Romeo per me rappresenta ancora veramente un elemento quasi di design nella sua semplicità rappresenta un qualcosa di unico e negli anni appunto questa tipologia di strumentazione quasi di precisione veniva poi anche venduta all'estero insomma era un po' un senso di italianità e purtroppo anche in questo caso vediamo un po' una spersonalizzazione da questo punto di vista però anche le lancette della strumentazione potrebbero andare verso il viale del tramonto un altro elemento che sempre meno spesso vedremo sull'auto del futuro potrebbe essere lo specchietto sia quello interno che quelli esterni sostituiti da telecamere o da pannelli video abbiamo già avuto modo di vedere la Range Rover Evoque che utilizza un sistema ibrido all'interno proprio dell'abitacolo per poter utilizzare delle immagini piazzate al posteriore e andare a sostituire quindi lo specchio tradizionale all'esterno Honda e ancora Audi e E-Tron hanno utilizzato delle telecamere al posto degli specchietti un po' per motivi aerodinamici un po' anche proprio perché per poter utilizzare dei nuovi schermi che vengono installati all'interno dell'abitacolo e dare maggiore effetto di tecnologia si possono utilizzare appunto questi elementi ma non solo l'utilizzo di una telecamera permette di acquisire immagini che poi da una centralina possono essere anche reinterpretate e quindi anche in funzione di sicurezza potremo in futuro vedere l'utilizzo di telecamere proprio al posto di questi specchi questi sono solo alcuni degli elementi che probabilmente vedremo cambiare nel corso degli anni ma fatemi sapere voi se ve ne vengono in mente altri se avete delle altre prospettive per i prossimi anni proprio sulle automobili del futuro noi ci vediamo al prossimo video sempre qui su DriveK se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al nostro canale YouTube ciao a tutti ciao a tutti